Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 14 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Un cuore in ogni porto. Proprio come fanno i marinai cantati da Lucio Dalla, anche voi lasciate un cuore infranto in ogni porto, o ops, villaggio turistico, città d'arte, borgo medio e vale o campeggio. Insomma, una vera varietà. Belle e impossibili, non tanto da conquistare, quanto da conservare. Infatti con Mercurio e Venere all'opposizione e la luna volatile intrigono, ogni gita, ogni festa, ogni serata che rischia di prendere una piega romantica, si chiude bruscamente. Decisione solo vostra, naturalmente, valvola salva vita e libertà, all'altro non resta che rassegnarsi ripiegando sul ruolo del caro amico. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. Giornata serena e tranquilla, almeno per moltissimi, solo alcuni avranno il loro da fare per restare in equilibrio con il proprio partner. In amore le rivincite sono concesse ma non sempre producono buoni frutti, vendicarsi di qualcuno che si è preso gioco di voi non è proprio il massimo. Piuttosto cercate di essere più voi stessi. Vi sentirete particolarmente attratti da una persona, in fondo, e lo sapete, è una bella persona. È tempo di pensare a una serie dieta, la salute prima di tutto. Oggi l'adulazione sarà mascherata da gentilezza e cortesia, badate di separare bene le due cose e tenervi quanto più lontano possibile dall'adulazione. Non cadere nella trappola della routine che massacra il rapporto. Cerca di vivacizzarlo come sai ben fare quando vuoi. Oggi un rivale in amore vi apparirà in tutta la sua cattiveria, ponete freno a tutto questo cercando di stare il più possibile con la persona che vi interessa o il vostro partner. La fortuna sostiene anche le vostre finanze, concedendovi guadagni soddisfacenti o in recupero di un credito. Siate tuttavia parsimonosi e mettete da parte quello che guadagnerete oggi. Giornata all'insegna del miglioramento dell'umore, la luna che fin qui si opponeva ora lascia il campo e vi sentirete liberi e vitali. La luna stimolerà la tua vita sentimentale, possibili conquiste e innamoramenti. Avrai a che fare con segreti e situazioni nascoste. Evita le bugie. Giovene i gemelli e Plutone nel vostro segno vi ravvivono la giornata, promettendovi un momento di maggiore tranquillità dopo una fase appena trascorsa piuttosto faticosa o frenetica e specie se siete nati in gennaio. Un po' di nervi in tensione possono non darvi quella tranquillità serafica e che nasce dalla solida razionalità, spesso dimostrata in famiglia, con gli amici, nei rapporti interpersonali in genere. Se frequentate le spiagge, gli astri suggeriscono la massima attenzione per le esposizioni ai raggi solari quest'oggi. Urano contrario vi potrebbe dare scottature e irritazioni. Domenica perfetto per viaggiare in treno, in aereo o semplicemente a piedi o su due ruote, l'essenziale è vedere il paesaggio scorrere davanti ai vostri occhi, cambiare posizione, altitudine o addirittura latitudine. Non da soli, però, per quanto amiate l'avventura viaggiare in compagnia, oltre che piacevole, sarà rassicurante, qualsiasi cosa accada sarete con qualcuno a sostenerne l'onere o l'onore. Amore ed Eros. Partner affettuosissimo è soprattutto comprensivo, di pazienza ce ne vuole tanta per tipi come voi, autonomi, imprevedibili, rustici nella manifestazione sentimentale. Il viaggio vi migliora, addolcendovi il carattere, per fare coppia fissa con voi bisognerebbe girare il mondo non stop. Avvertite un bisogno di tenerezze, di coccole, di nido, avendo il pianeta dell'espansione, Giove, che adesso vi sorride ed è ospitato nel segno amico dei gemelli. I rapporti stabili godono in questa giornata di metà del mese, di una felice iniezione di romanticismo che si presenterà associato a una felice predisposizione per le atmosfere e gli stati d'animo decisamente poetici. Lavoro e denaro? In partenza per le vacanze espressione entusiasta, ma bagaglio leggero, libero da tutte le ansie e le preoccupazioni della quotidianità, senza contare che un pezzettino di cuore rimane comunque in città, con gli amici che non si possono muovere e non netti che ogni estate entrano in crisi. Itinerario intrigante e pieno di sorprese, difficile stupire un enciclopedico acquariano, ma oggi qualcosa o qualcuno ci riesce. Quanta tenacia quale energia soprattutto intellettuale ci mettete nel vostro ambito di attività concreta. Appartenete a un segno che si dà molto da fare nel lavoro, pur con la calma tipica e il rispetto dei tempi giusti di ricreazione. Questo notevole impegno di dà aiuto nel farvi sbrigare le ultime incombenze lasciate in sospeso, magari nei giorni scorsi. Benessere. Allo specchio vi vedete belli e se ve lo dice lo specchio è pura verità, dei giudizi altrui non vi fidate, qualcuno parla per invidia, qualcuno per accondiscendenza, ma sulla vostra immagine riflessa, nessun dubbio, il giudice siete voi. Denaro. Siete convinti che la buona sorte e tocchi a chi si dà da fare, costruisce un futuro luminoso con fatica, ma vede risultati e meriti personali arrivare. Non vi cattura più di tanto la possibilità di conquistare la fortuna al gioco. Per lei, quanti profumi, quanti sapori, appena approdate nel luogo che ha scatenato le vostre fantasie sembrate cagnoline da tartufo, quasi drogate dai profumi del bosco. Trolle o zainetto semi vuoti per voi, abbigliamento minimalista, lo spazio serve tutto per le emozioni, i ricordi e qualche nuova amicizia da coltivare. Per lui, ogni viaggio una donna, ma questo si legge nei romanzi, in realtà la vostra è sempre la stessa, cambia solo la foggia degli abiti e dei bijux che si compra puntualmente ai mercatini locali ogni volta che varcate il confine. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 5, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.